Salve a tutti ragazzi e bentornati su Match Tuning Oggi andiamo a continuare la conversione full led della Smart 453 E come potete ben notare ho qui davanti a me il faro posteriore della Smart Quindi andremo a cambiare la lampadina della freccia Questo è un lampadone enorme, è un lampadario non un lampadone E quella della retromarcia che sta qui dentro Ovviamente prima dobbiamo smontare il faro L'operazione si può fare tranquillamente vicino alla macchina Per comodità per fare video l'ho esportato sul bancone Voglio anche presentarvi le lampadine Questa è quella per le frecce con 6 led ambra, ovviamente cambus E quest'altra è per la retromarcia Vi ricordo sempre di evitare di toccare i led con le dita Ok ragazzi cominciamo con lo smontaggio del faro posteriore della Smartina 453 Ci sono due torx, quindi moditevi di chiave a torx misura T20 Ci sono queste due viti molto semplici da sfilare E abbiamo accesso al faro C'è un primo gancio in alto, questo va quindi sfilato come potete vedere Poi da lì con una pressione un po' più forte si sfila Poi utilizzo questo solito strumento Molto molto utile in quanto essendo in plastica non rovina la carrozzeria Con una luce mi sono trovato il gancio Quindi ho infilato questo arnese e mi è venuto via il faro con abbastanza facilità Forse l'ultimo gancio è quello un po' più rognoso Però con un po' di pazienza non ho fatto tagli nel video Quindi vedete proprio in tempo reale ci avrò messo due minuti massimo per smontarlo Infili il cacciavite viatto qui dentro Ok, arrivi fino in fondo così da agganciare il gancio giù in fondo Lo alzi e mentre sta alzato tiri Una volta che abbiamo smontato il faro Qui abbiamo quattro gancetti Uno, due, tre, quattro Basta scansare le linguette E dovrebbe venire via il blocco Ok Uno e due E alziamo tutto Ok Ok Ecco fatto, è venuto via tutto il blocco luci Le lampadine che dobbiamo andare a sostituire noi Sono questa della freccia e questa della retromaccia Comunque va ruotata Scusate Spinta e ruotata Qui abbiamo un piccolo Un piccolo ampolla che va infilata nell'apposita sede Spinciamo la lampadina e la ruotiamo Poi questa si bloccherà da sola Quando riguarda quella della retromaccia basta tirarla verso di noi Ok 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 Per quanto riguarda il rimontaggio del faro Molto semplice Andiamo proprio al retroso Quindi Basta infilare il blocco luci Riconnettere lo spinotto Molto semplice Appoggiare il faro con i tre gancetti sui loro appositi alloggi Spingerlo E riavvitare le viti Ragazzi il risultato è veramente fantastico E veramente le luci della retromarcia fanno veramente una luce assurda Fenomenale Veramente Cioè È difficile da spiegare ragazzi Però praticamente ho fatto la prova al buio Ho acceso la macchina come potete vedere Ho messo la retromarcia e diventa un faro Un faro ragazzi È come avere gli anabbaglianti però sulla parte posteriore della macchina Inoltre pure le frecce sono veramente molto più reattive Quel fastidioso arancione della lampadina quando la freccia è spenta non si vede più Quindi è esteticamente più bello anche a luce spenta E inoltre appunto a livello di funzionalità Uno c'è un assorbimento minore di corrente E abbiamo una reattività maggiore delle lampadine Ovviamente zero errori È tutto campus Come avete visto è tutto plug and play Quindi non ci sono resistenze aggiuntive Non dovete tagliare cavi Mettere ruba correnti Quindi Cioè avete visto voi stessi Senza che mi dilungo ulteriormente Vi chiedo quindi lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto Commentate se avete bisogno di informazioni Iscrivetevi per email o su Instagram O potete in alternativa contattare Xanon per tutti Per maggiori informazioni Per lo sconto scrivete direttamente a me in privato Per questo video è tutto ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti